Isola Art Center è una piattaforma di sperimentazione per l'arte contemporanea, lavora all'interno di una situazione che noi chiamiamo calda, che è la situazione del quartiere di Isola a Milano. È una piattaforma rizomatica in cui lavorano artisti, curatori, scrittori, architetti, insieme ai comitati di quartiere. In mostra al maxi abbiamo portato fondamentalmente due oggetti, una foto di Paola Di Bello che fotografa la festa del primo anno di Pepe Verde e l'altro oggetto in mostra è la pubblicazione Fight Specific Isola e qui abbiamo portato il fotoromanzo che apre il libro, che racconta l'azione di Isola Art Center all'interno del quartiere negli ultimi dieci anni.